Ciao ragazzi, io sono Nico di Ness, sono ritornato con una nuova sfida, sfida, nuovo arrivato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, mi aiuta tantissimo, condividete con i vostri amici se hanno bisogno di una mano per fare queste sfide, vavano allora, iniziamo così giocatori che li trovate a bassissimo prezzo, come sempre questo esterno a destra ragazzi, quindi tranquilli, lo potete mettere e questo è l'ultimo ok, quindi questo è il pacchetto vediamo se ce lo fa aprire perché ho qualche cosa su, ho comprato un paio di giocatori quindi ho il costo full, ah no, si può aprire vediamo, 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 vediamo che cosa si nasconde dentro, no, non possiamo, è vero non possiamo perché ho comprato qualche giocatore che ancora non riesco a a metterlo sul mercato, ho investito su questo giocatore quindi se volete potete investire pure voi io vi ringrazio ragazzi, nel prossimo video apriamo anche questo pacchetto quindi buona fortuna a tutti grazie grazie grazie